bentrovati bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it oggi vedremo qualcosa che in molti di voi mi hanno chiesto tante volte commentando i video qui su youtube molti di voi mi hanno domandato fabio ci fai vedere come si fa una sequenza di fotografie in premier pro tipo con una dissolvenza tra una fotografia e l'altra tali da poter essere poi condivise rapidamente con i nostri amici su facebook beh se avete seguito il mio corso introduttivo a premier pro in realtà già sapete come si fanno queste cose però se non avete voglia di star lì a vedere le ore e ore e ore di corso in cui abbiamo imparato come si usa premier non vi preoccupate per questa volta farò un'eccezione e vi mostrerò come fare un collage no non è un collage una sequenza di fotografie da poter condividere liberamente con i vostri amici su facebook o anche su tik tok si 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 viva o su instagram dove dove volete insomma ecco allora la prima cosa da fare sicuramente lo immaginerete e importare le fotografie dentro a premier pro è la primissima cosa da fare sì ok dopo aver creato un progetto eccetera eccetera però dai questo lo sappiamo fare no allora come si importa il materiale in premier cliccate all'interno del pannello progetto e premete il tasto ctrl i ctrl i in questo modo aprirete la finestra per importare le fotografie il consiglio che vi do è di prepararvi prima le fotografie da importare in maniera tale che voi andando in questa finestrina possiate cliccare direttamente sulla cartella che contiene le vostre fotografie e cliccare poi sul bottoncino importa cartella quindi voi preparate le vostre fotografie insomma le mettete in una cartella tipo questa e poi quando siete qui cliccate su importa cartella dopo averla selezionata e premier automaticamente per voi importerà le fotografie presenti in quella cartella semplice no quindi il primo lavoro è preparare le fotografie poi importare avete capito bene siamo dentro alla cartella in questione ci sono tutte le fotografie ma non abbiamo una sequenza ora la tentazione che molti di voi avranno in questo caso è prendere le fotografie e trascinarle direttamente qui dentro creando una sequenza che probabilmente avrà dimensioni infinite non fatelo non fatelo il mio consiglio è quello di creare una sequenza adatta a quello che è il vostro scopo per esempio se dovete condividere le vostre fotografie su facebook è inutile che no fate un video in 5k non serve no facciamo un video in hd che è più che sufficiente per adesso e va più che bene per essere visualizzato correttamente anche su internet quindi per creare una cartella ricordate come si fa ctrl n ctrl n abbiamo questa ulteriore finestra che appare potete scegliere il preset che preferite sulla sinistra o crearne uno personalizzato anche qui non mi dilungo troppo perché c'è la lezione dedicata del corso di premiere pro questo sia importante date un nome alle cose che fate in premiere in questo caso foto orbetello non è importantissimo ma per essere ordinati è un gran consiglio quello di dare sempre un nome alle cose cliccate su ok ok abbiamo la nostra sequenza andiamo nella nostra cartella delle fotografie ctrl a ctrl a per selezionare tutte le fotografie e le trasciniamo dentro la nostra sequenza rilasciamo e bam tutte le nostre fotografie sono importate e verranno visualizzate di default per una durata di cinque secondi tra poco vi mostrerò come personalizzare anche questo aspetto però già vedete un problema per esempio questa fotografia è molto più grande rispetto al nostro fotogramma il nostro fotogramma è grande 1920 pixel per 1080 e beh questa fotografia se la andiamo a cercare nel nostro progetto vedremo che ha una dimensione molto più grande ora anche qui vado veloce perché di queste cose abbiamo parlato però se andiamo a vedere questa fotografia le dimensioni sono di 5184 per 3456 la nostra sequenza è 1920 per 1080 quindi la fotografia è molto più grande beh potete fare due cose o fotografia per fotografia scalate e la adattate a quelle che sono le vostre necessità oppure se volete far fare tutto a premiere selezionate tutte le fotografie poi con il tasto destro del mouse sopra una qualsiasi fotografia andate alla voce imposta su dimensione fotogramma cliccate bam premiere automaticamente adatta le fotografie alla fotogramma alla sequenza che avete creato ho chiaro che alcune fotografie hanno delle proporzioni diverse rispetto al nostro fotogramma quindi queste barre nere sono inevitabili no perché questa operazione di adattamento fa sì che premiere allarghi ingrandisca una fotografia o la rimpicciolisca fino a farla a far sì che un suo lato combaci con un lato della sequenza quindi se non siete soddisfatti c'è sempre il solito modo è quindi cliccate sulla singola clip scala e andate a ingrandirlo a rimpicciolirla secondo le vostre necessità però facciamo che a me così vada bene ok e tutto sommato beh mi piace questa sequenza come faccio ad applicare una dissolvenza a tutte queste fotografie beh è semplicissimo in realtà andate intanto su il pannello effetti e identificate dentro la cartella transizioni video la cartella dissolvenza dentro la cartella dissolvenza avete diverse diverse tipologie di dissolvenza normalmente quella che noi cerchiamo la dissolvenza incrociata dovete assicurarvi che la dissolvenza che volete utilizzare sia evidenziata di blu ora noi non interessa dissolvi al bianco ci interessa la dissolvenza dissolvenza incrociata la selezioniamo tasto destro imposta transizione selezionata come predefinita tra poco vi spiegherò vi farò vedere perché è importante questa operazione fantastico clicchiamo e adesso la dissolvenza incrociata come potete vedere diventa azzurrina e quindi è quella predefinita a questo punto selezionate tutte le fotografie nella timeline premete i tasti control d di domodossola quindi control d bam e automaticamente mandiamo in play dall'inizio verrà applicata una dissolvenza standard questa che avete appunto impostato come dissolvenza predefinita e avete creato il vostro video di fotografie poi chiaramente voi potete metterci anche una musichina di sottofondo lo faccio vedere giusto per quelli che vogliono vedere proprio tutto andate sul vostro hard disk scegliete per esempio un brano in questo caso prenderò un brano di anomalie l'italia occulta una cosa molto bella cercatela su facebook e su instagram per capire che cos'è angoscia mi sembra che sia un brano bellissimo lo applicate sotto ed ecco che avete realizzato un video con una musichina ok non è proprio il brano più adatto ok beh dipende poi anche quello che volete raccontare chiaramente questo magari è un brano anche molto corto magari potete prendere un brano un pochettino più lungo insomma potete divertirvi come volete montare queste foto come più vi aggrada ma non ci dedichiamo adesso al montaggio vero e proprio ci interessa capire un'altra cosa se noi volessimo un altro tipo di transizione per esempio una transizione come si dice in gergo a spinta allora una transizione a spinta per intenderci è quella transizione che fa sì che tutte le fotografie scorrano da sinistra verso destra per esempio no allora io riadatto ok le fotografie torno tra gli effetti ecco qua e vado a cercare nella cartella transizioni video la cartella la cartella ok ho cercato dissolve dicevo nella cartella transizioni video cercate la cartella scorrimento nella cartella scorrimento per esempio avete la voce panoramica schiaffo oppure slide che è forse quella che stiamo cercando c'è la dissolvenza appunto slide la selezioniamo tasto destro imposta transizione selezionata come predefinita ctrl d dopo aver selezionato tutte le nostre clip e adesso le nostre fotografie scorreranno una dopo l'altra con questa tipologia di transizione ok ripeto potete scegliere la transizione che preferite faccio ctrl z e imposto quest'altra transizione vediamo come cambia probabilmente non accadrà ah no non ho applicato ctrl d sempre ctrl d ed ecco chiaramente ok è un po' diversa ma il senso è sempre quello ok questo per mostrarvi come possiate poi impostare la transizione che preferite come predefinita e con ctrl d dopo aver selezionato tutte quante le clip applicarla in massa a questo punto potete dare un in e un out se preferite alla vostra sequenza premere i tasti ctrl m di milano accedere al modo al modulo di export ed esportare il vostro video come preferite notate come si possa anche pubblicare direttamente su facebook per esempio questo è qualcosa di cui abbiamo parlato nel corso base di premier pro e qualcosa di cui parleremo probabilmente anche nel corso online che terrò prossimamente su skype e su zoom per coloro che vorranno partecipare ad un corso un pochettino più intimo se volete informazioni venite sul sito www.fabbiambrosi.it o scrivete un'email ad info-fabbiambrosi.it sarò felice di aggiornarvi su questo progetto del corso un po' più intimo ovviamente e basta credo che questo tutorial per oggi possa definirsi concluso ah prima di salutarci però una domanda che tanto in molti di voi mi faranno comunque ma se vuole sì dare un ordine diverso alle fotografie sì ok potete portarle dentro e poi spostarle uno alla volta però se per esempio volete dare un ordine preciso alle vostre fotografie sappiate che l'ordine con cui le fotografie verranno nella sequenza può essere dato con l'ordine di selezione quindi selezionate la prima fotografia tenendo premuto il tasto control sulla tastiera selezionate la seconda fotografia poi selezionate la terza fotografia selezionate la quarta fotografia la quinta fotografia e così via quando le trascinerete dentro la timeline le fotografie avranno l'ordine che voi avrete impostato nella selezione questo per risparmiarvi momenti di panico oddio come faccio a riordinare le fotografie beh date un ordine di selezione invece di fare control A e importare tutto in massa e il gioco chiaramente è fatto come potete vedere una singola fotografia importata in Premiere Pro ha una durata di 5 secondi potete cambiare questo comportamento andando su modifica preferenze timeline e scegliere per esempio non so che le immagini debbano avere un secondo di durata così come potete decidere che la transizione predefinita quella che impostate per intenderci con control D debba durare invece che 25 fotogrammi 50 fotogrammi date l'ok ora la piccola brutta notizia chiaramente questa modifica avrà effetto solo sulle prossime immagini immagini che importerete quindi vado a reimportare la cartella e vedrete che adesso la cartella importata le immagini della cartella importata avranno una durata di un secondo eccolo qui e chiaramente adesso se andate a selezionare tutte le immagini e le portate in timeline ciascuna immagine avrà la durata di un secondo stessa cosa per la transizione predefinita vi ho detto che la transizione predefinita di default ha una durata di 25 fotogrammi ora l'ho impostata a 50 fotogrammi quando premerò control D la durata della transizione sarà sicuramente più lenta e in questo caso praticamente 2 secondi ma potete personalizzarla come volete termina qui anche questo video tutorial firmato fabiabrosi.it se vi è piaciuto commentate facendo domande o chiedendo altri video tutorial ovviamente iscrivetevi a questo canale youtube e accendete le notifiche per non perdere i prossimi video tutorial cercatemi su facebook la pagina è Fabio Ambrosi anche instagram mi raccomando se vi va e ovviamente cercatemi su www.fabioambrosi.it ciao al prossimo video tutorial ciao al prossimo video